Le segnalazioni abbondano così come non mancano le ordinanze e gli accertamenti di ARPAM e ASUR che certificano la presenza di diversi casi di amianto ed eternit deteriorato pericoloso su depositi e aziende private a due passi dalle abitazioni. Dai quartieri peseresi di Muraglia e Pantano alla collina di Monte Ciccardo il consigliere comunale Daniele Malandrino e la coordinatrice di Fratelli d'Italia Serena Boresta riaccendono l'attenzione sui troppi casi ancora irrisolti. Il problema dell'amianto è stato segnalato in diverse zone di Pesaro in particolare quello di amianto deteriorato che è la principale causa del mesotelioma un tumore micidiale e in questo caso parliamo di Monte Cicardo, di Muraglia e di Pantano dove l'ASUR ha ad esempio qui a Muraglia certificato la presenza di amianto deteriorato già dal 2015 la domanda da farsi è come mai il sindaco e la giunta che sono responsabili della salute dei propri cittadini non intervengono come la legge permette perché la legge non obbliga ma permette al comune di sostituirsi ai proprietari per la rimozione dell'amianto e per poi rivalersi sugli stessi a livello di costi sostenuti. Casi che si trascinano per anni con tutti i rischi connessi, casi sollevati anche in interrogazioni in consiglio comunale. Io ho portato il caso di Monte Cicardo in consiglio comunale, ho fatto presente anche che a Muraglia a 50 metri in linea d'aria ci sono centinaia di giovani e di bambini che si allenano tutti i giorni e con la consapevolezza dei problemi legati all'amianto a livello di tumori, il mesotelioma in particolare non capisco come mai chi è responsabile come sindaco della salute dei propri cittadini non interviene prontamente anche perché come dicevo la legge te lo permette, anzi puoi anche rivalerti giustamente sui proprietari che non sono intervenuti. Quindi è una cosa che andrebbe fatta prima possibile soprattutto nei riguardi di quei residenti che sono molto preoccupati dalla presenza di questo amianto deteriorato e nei riguardi in questo caso anche delle centinaia di atleti che si allenano nel campo sportivo di Muraglia.